La cooperativa Bessimo che mi sta dando una forte mano perché essendo stato in carcere non sapevo andare, voi vi state aiutando tantissimo, cercherò di dare il possibile e scusatemi povera che io non sono molto bravo in italiano con le cose qua, mi sto trovando bene, sto preparando i corsi per poter avere un futuro anche lavorativo e un ringraziamento a tutti voi operatori e volontari che ci accudite, vi auguro a voi e alle vostre famiglie di passare un bellissimo Natale e un bellissimo Pined'Anno, casa sempre rosso e via! Ciao ragazzi della cooperativa di Bessimo, vi auguro tanti auguri, sono felicissimo di avervi conosciuti, grazie a voi sono riuscito a rientrare nella strada che ero perso, grazie a voi vi sto rivivendo e sto ricostruendomi, vi auguro buone feste a tutti gli operatori e tutti i volontari e non so dire altro che grazie, buon Natale e buone feste e continuate a voi. Grazie, grazie!